Sindaco Parise, stiamo facendo un po' un giro di telefonate per capire qual è la situazione nel nostro territorio. Nel suo comune come vanno le cose? Allora, salve. Nel mio comune devo dire che tutto sommato le cose sono abbastanza tranquille. Stiamo lavorando bene, in stretta sinergia con le forze dell'ordine, il comando di polizia municipale, le associazioni di volontariato, la Croce Rossa, la protezione civile, il Proloco. Devo dire che la gente sta rispondendo bene, stiamo adottando tutte le misure del caso per far uscire il meno possibile la gente da casa e devo dire che la situazione al momento è tranquilla. C'è la possibilità per i suoi concittadini di avere dei servizi, di stare bene, di stare tranquilli? Soprattutto ci sono controlli? Allora, i nostri cittadini devono stare assolutamente tranquilli. Noi dal primo momento, non da adesso, ma già da dieci giorni circa, da appena due settimane, più che dieci giorni, da quando è sopraggiunta questa emergenza abbiamo attivato immediatamente il centro, il cocco comunale. In collaborazione con tutte le associazioni presenti sul territorio diamo servizi importanti alla popolazione, specialmente alle persone più fragili, anziani, disabili e quant'altro, per non farli uscire proprio di casa. Quindi noi abbiamo un numero dove i cittadini possono rivolgersi, risponderà sempre un operatore, portiamo la spesa a casa, farmaci, tutte le cose che noi, i servizi che noi possiamo portare a domicilio, li stiamo portando e stiamo facendo in modo che la gente esca meno possibile di casa. Questo, come dicevo, grazie alla collaborazione di tutte le associazioni e soprattutto della protezione civile, stiamo appunto dando questi servizi e vedo che la gente è molto contenta per quello che stiamo facendo. Per il resto, per i controlli, certo, abbiamo, come dicevo prima, una stretta collaborazione con le forze dell'ordine, dei vigili urbani e le associazioni, stiamo controllando il territorio, quotidianamente controlliamo le persone che sono in quarantena obbligatoria nelle case, il territorio è presidiato, devo dire, 24 ore su 24 e ad oggi la situazione sembra tranquilla. A mezz'ora che è scattata una gara di solidarietà fra cittadini e con la collaborazione ovviamente dell'amministrazione, la coordinazione dei servizi sociali dell'amministrazione comunale insieme alle associazioni, è scattata una gara di solidarietà e praticamente si sta verificando che tutti i cittadini, specialmente quelli meno abbienti, si sta facendo recapitare un pacco di alimenti, di beni di prima necessità con l'aiuto non solo dei banchi alimentari e della Caritas, e quindi dei servizi sociali stessi, ma spesso con il contributo fattivo di cittadini che spontaneamente e volontariamente ci chiamano e fanno donazioni di beni di prima necessità. Quindi questa è una cosa molto positiva che ci fa ben guardare e ben sperare sull'aspetto sociale e culturale che Mesoraka ha perso in questo momento.